Non ha tradito le aspettative il concerto di Natale 2017 dell'orchestra filarmonica Demetra e del coro polifonico Frimelo di Difavara. Ieri sera la loro esibizione ha davvero entusiasmato tutti, grandi e piccini. In una sala del Teatro Gospel, Chiesa Evangelica internazionale, riempita in ogni dove, anche la hall era strapiena con posti a sedere che arrivavano anche vicino alla porta d'ingresso, i professionisti si sono esibiti nei suoni e nelle melodie tipiche del Natale. Ma non sono mancati anche brani in stile classico e moderno, colonne sonore e celebri waltzer. Insomma, ce n'era per tutti i gusti. Ma a rendere ancora più suggestiva e unica la serata, i giochi di luci e le proiezioni realizzate in mapping 3D dal favarese Lillo Sorce. Una scenografia animata che ha accompagnato i diversi brani e che ha letteralmente sbalordito i presenti che non hanno perso occasione di registrare i momenti salienti della serata. Presenti ovviamente i pastori della Chiesa Evangelica internazionale, che gratuitamente mette a disposizione i propri locali per le prove dell'orchestra e del coro, e l'amministrazione comunale con in testa la sindaca Anna Alba. Questo concerto natalizio ha dimostrato ancora una volta alla città di Favara che si può essere ben fieri di annoverare tra le proprie eccellenze musicisti e cantori oltre 90 elementi che rendono questa una delle realtà più importanti della Sicilia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.